A Pescara, nel segno della sostenibilità ambientale, a partire dal prossimo 30 giugno, saranno immesse sulle strade 250 biciclette pedalata assistita della società Beat Mobility, a cui l'amministrazione comunale ha affidato il servizio per tre anni. Stiamo portando avanti ormai da due anni e senza alcun costo per le casse dell'ente, è un progetto che fa segnare un altro primato nelle buone pratiche per la micromobilità urbana moderna. Ha evidenziato l'assessore alla mobilità e ai trasporti Luigi Albore Mascia, presentando l'iniziativa La Stampa. È una novità assoluta, da anni i cittadini pescaresi chiedono l'immissione di una flotta di biciclette, ricordo per la verità anche da quando sono stato sindaco di questa città e ci sono stati tanti problemi logistici negli anni. Ma finalmente questo sogno diventa realtà attraverso questa fornitura di 250 mezzi che dal 30 giugno saranno immessi nella nostra città. Sono mezzi a pedalata assistita, molto evoluti dal punto di vista tecnologico, che daranno un'ulteriore offerta di spostamento con modalità alternativa all'interno del nostro perimetro cittadino. Questo si affianca ai monopattini, agli scooter elettrici, alle biciclette a pedalata muscolare. Queste biciclette che sono davvero molto belle e che vengono fornite dalla Bit Mobility, un'azienda di Bussolengo in provincia di Verona che lavora già in tante altre città, anche più grandi di Pescara, queste biciclette iniziano ad essere davvero un'alternativa di spostamento. Io mi auguro che i nostri concittadini, i turisti, chiunque raggiunga Pescara, colga questa opportunità unica. Quindi finalmente vinciamo anche il tabù delle zone più alte di Pescara. Con queste biciclette si possono raggiungere anche le zone collinari e quindi questo consente anche a una larghissima fetta di popolazione che abita nelle nostre zone collinari di potersi muovere in libertà. Cosa dovranno fare cittadini e turisti per poterle utilizzare? Molto semplicemente lo stesso concetto dei monopattini elettrici. Bisogna scaricare un'app sul proprio cellulare e poi sbloccare la bicicletta che ha oltretutto un cruscotto di grande e elevata tecnologia, anche parlante e poter quindi contrattualizzare la bicicletta pedalata assistita con delle tariffe che sono davvero abbortabili e sono molto simili a quelle dei monopattini e rendono questo servizio molto accattivante.